Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi voglio recensirvi dei prodotti della linea Fran Provo. Sto parlando di questi due prodotti qui. Ci tengo a precisare che tutti i video che farò per recensire i prodotti non sono video in collaborazione con le aziende, quindi non me li hanno mandati ma li ho acquistati direttamente io nei miei vari giri, nell'ipermercato oppure in vari negozi che ci sono qui a Bari dove trovo dei prodotti che penso possano essere interessanti per gli intolleranti al latto osseo oppure dei prodotti per la cura della persona che sto utilizzando. Questi prodotti, ripeto, non sono stati inviatimi dall'azienda ma li ho acquistati direttamente io. E poi la maschera. Sono tutte e due della linea protezione e lucentezza per capelli colorati o con mesh. Avendo io i capelli trattati, avendo fatto sia shatush che mesh, mi sono ritrovata quest'estate con i capelli un po' sfibrati, un po' secchi, danneggiati anche dal sole. E di conseguenza ho iniziato a provare questo prodotto, lo shampoo, mi sono trovata bene e ho poi deciso di utilizzare anche la maschera. Combinati ovviamente rendono molto di più, proprio come dicono, come consigliano sulla confezione. Lo shampoo è in questa confezione da 750 ml ed è un... loro dicono che è il formato per salone, quindi è il formato che utilizzano i parrucchieri senza siliconi. Expert Cooler, shampoo professionale, protezione e lucentezza, bacche d'acai, antiossidanti. Fra un provo con più di 30 anni di esperienza e 600 saloni di bellezza in tutto il mondo presenta la sua prima gamma di trattamento per capelli in formato professionale testata nel suo centro tecnico per portare la qualità dei grandi saloni a casa vostra. Expert Cooler, utilizzo Expert Cooler per i capelli colorati o con mesh. La formula arricchita con estratto di acai, antiossidante, è stata studiata per proteggere i vostri capelli e sublimare la lucentezza del vostro colore. E questo è innegabile. Affidatevi all'esperienza di un professionista per un colore luminoso e a lunga durata. Diciamo che questo è alla base, il professionista è un'altra cosa, quello che facciamo noi a casa è un'altra cosa ancora. Consigli di utilizzo. Applicare i suoi capelli bagnati, massaggiare dolcemente e risciacquare abbondatamente con acqua tiepida. Per ottenere maggiore efficacia e trattamento, utilizzare il balsamo Expert Cooler. Io non utilizzo il balsamo che dicono loro, utilizzo quello dell'Elviv di cui vi ho fatto la recensione che vi lascio su nelle schede, il link giù nell'info box. Il prodotto è senza siliconi, ma come lo sono anche gli altri prodotti che utilizzo. Si utilizza come uno shampoo tradizionale, come appunto è anche riportato sulla confezione. Ci si bagna i capelli, ci si passa su un po' di shampoo. Di solito io lo faccio con dell'acqua, perché appunto non lo metto mai puro direttamente sui capelli, in quanto risulterebbe troppo aggressivo per quanto riguarda i miei capelli. E di conseguenza poi friziono e risciacquo con abbondante acqua tiepida. E poi passo a fare la piega, liscia, mossa, dipende dalle giornate. Questo diciamo in linea generale, se devo fare uno shampoo veloce. Se ho intenzione invece di fare tutto il trattamento, dopo lo shampoo, dopo aver frizionato lo shampoo e risciacquato con l'acqua, prima di passare all'asciugatura, utilizzo la maschera. E' sempre della linea Fran Provo, è sempre della linea Expert Cooler, maschera professionale, protezione e lucentezza con anti-studiante colore, capelli colorati o con mesh. Consigli di utilizzo, applicare generosamente sui capelli bagnati, lasciare agire per 3-4 minuti, poi risciacquare abbondantemente. Ed è esattamente quello che faccio io dopo aver utilizzato lo shampoo. In caso di contatto con gli occhi, risciacquare con un'abbondante acqua fredda. All'interno della confezione ci sono 400 ml di prodotto e è come se fosse una crema. Non so se si muove. Ora è quasi a metà, perché appunto la sto utilizzando da quest'estate, ma non la utilizzo tutte le volte che faccio lo shampoo, considerando che in media faccio due shampoo a settimana. una volta dal parrucchiere, l'altra lo faccio io, quando lo faccio io utilizzo appunto anche la maschera. Io mi sento di consigliare entrambi i prodotti in quanto sono perfetti, almeno io mi sono trovata bene, avendo i capelli misti, tendenti un po' al grasso, però trattati e che sono un po' secchi sotto a causa appunto del colore. Il mio video termina qui, spero vi sia stato d'aiuto. Vi lascio giù nell'info box tutti i link ai miei canali social, che trovate anche qui in sovrimpressione. Vi saluto e vi rimando al prossimo video. Ciao!